Bilancio 2024-2026, approvata la prima variazione, la manovra illustrata all'aula dal presidente della commissione bilancio Bugliani è stata votata a maggioranza. Il presidente della giunta Gianni ha illustrato il pacchetto degli emendamenti. Generazione Toscana, iniziati gli incontri tra le scuole, la Toscana raccontata dalla generazione Z, il progetto per la carta dell'identità culturale toscana ideato dal vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli. Eventi, emozione e poesia per il premio in ricordo di Francesco Nuti, la prima edizione del premio a Claudio Bisio presente in sala e Sabrina Ferilli che ha inviato un videomessaggio da Roma. Approvata in aula con voto a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della regione Toscana che recepisce gli emendamenti proposti dal presidente della giunta Eugenio Gianni presentati in commissione bilancio. La manovra prevede uno stanziamento che per il 2024 è di oltre 21.355.000 euro, per il 2025 di un milione di euro e per il 2026 di 189.000 euro. Sulla manovra hanno votato a favore PD e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. La manovra è stata illustrata all'aula dal presidente della commissione bilancio Giacomo Bugliani. Sentiamo. Una variazione di bilancio, quella licenziata dal Consiglio regionale toscano che si muove lungo tre direttrici e persegue tre obiettivi principali. Da una parte l'obiettivo primario è sicuramente quello di contribuire al riequilibrio economico del servizio sanitario regionale. Una misura importante che viene affrontata soprattutto attraverso la destinazione di una quota importante dell'addizionale regionale dell'IRPEF proprio al tema della sanità e del risarimento dei bilanci della sanità della Toscana, a cui si vanno ad aggiungere anche altre risorse come ad esempio quelle derivanti dagli accantonamenti che la Regione Toscana ha posto in essere per affrontare le cosiddette lettere di patronage a favore di cassa depositi e prestiti che invece divengono esigibili già in questa fase, consentendo quindi un'ultima interiore stanziamento di quasi 38 milioni di euro. Il Presidente Eugenio Gianni ha illustrato invece gli emendamenti che riguardano sette capitoli di spesa che si inseriscono nella previsione finanziaria e negli interventi normativi collegati. Sono molto contento anche dell'andamento del dibattito che rivela apprezzamenti e consapevolezza che con questa variazione bilancio chiudiamo definitivamente quello che è il bilancio 2023 sulla sanità. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli. E invece ecco che proprio andando a trarre le somme, voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi espansione, in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa che potenziano i pronti soccorsi e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico-finanziario della regione. E adesso sentiamo le parole di Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia. Ma è una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni, una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei, non c'è un filo conduttore sulla programmazione, si illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria ma senza saperne esattamente il contenuto. In poche parole, quello sforzo che era stato chiesto appunto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione del bilancio della sanità. Sentiamo adesso il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. La situazione economica di questa giunta e dei suoi bilanci è drammatica, soprattutto sul versante della sanità e questa variazione sulla quale c'erano molte aspettative per superare delle difficoltà strutturali appunto della sanità ma non solo ha deluso. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con migliori e con disabilità con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal Presidente Gianni. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziate negli anni successivi come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono a essere molto più spot. Non abbiamo votato pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente, le misure per i minori disabili e per le loro famiglie e altre misure, altre strutture che aspettano da molti anni di essere finanziate ma probabilmente hanno il torto di essere stanziate in aree che probabilmente dal punto di vista elettorale in questo momento fanno meno gola. Perché questa giunta, quello che finora ci ha sempre mostrato, è questo estremo opportunismo dal punto di vista della distribuzione delle risorse. E adesso Marco Casucci della Lega. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in Commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito, occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta con l'opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di Commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono stati aumentati le tasse dei Toscani addizionali per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione. 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Sentiamo adesso il commento di Maurizio Sguanci di Italia Viva. Una variazione di bilancio positiva. Le modifiche apportate e richieste dal governatore sono tutte più che ragionevoli a partire da quello che riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e la consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto ai affetti d'autismo, e il fatto che ABBA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie e ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale, ma soprattutto da parte della Giunta e del Governatore, che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. E adesso le parole di Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico. Una variazione di bilancio non grande, ma molto significativa, con emendamenti che abbiamo fortemente richiesto anche come gruppo del Partito Democratico. Ne voglio citare alcuni. Pensiamo alle risorse che serviranno per incentivare i medici che lavorano nella medicina d'urgenza, quindi nei nostri pronti soccorso. Oppure gli 800 mila euro che serviranno per completare le graduatorie, per dare i contributi a tutte le famiglie che hanno fatto domanda nel 23, che ancora non erano state finanziate perché hanno presenza di familiari con handicap gravi. Oppure le risorse per pagare gli stipendi agli operai forestali o quelle per dare contributi ai comuni disagiati. E in ultimo quello per gli istituti storici della Resistenza, proprio quest'anno nei quali ricorrono gli 80 anni della Resistenza in Toscana e credo che sia veramente importante dal punto di vista civile e valoriale ricordare quegli accadimenti e quei momenti che hanno dato vita alla nostra democrazia. Insomma, una prima variazione che dà risorse laddove sicuramente ce n'era molto bisogno per dare risposte ai nostri territori e ai cittadini che più hanno bisogno nella nostra regione. Infine, le parole di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Variazioni di bilancio? Allora, scorrendo il lungo elenco delle sovvenzioni e delle variazioni che ci sono state, a me mi sembrano tante marchette politiche. Lo dico chiaramente guardando in camera, perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al voto. Per cui probabilmente è il gioco della politica. Non mi piace, non so se lo faremmo anche noi se ci fossimo in maggioranza, ad oggi posso soltanto dire che sono contrario a quello che succede fatto da questa maggioranza. Ha preso il via la seconda fase del progetto Generazione Toscana, la Toscana raccontata dalla Generazione Z. L'Isis Valdarno di San Giovanni Valdarno ha ospitato i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme, dando il via al programma degli incontri, che vedrà coinvolti dieci istituti, uno per ogni provincia toscana, di qui alla fine di aprile. Creare itinerari alla scoperta di cultura e risorse della regione, coinvolgere i giovani toscani nella riscoperta e nel racconto delle identità, della cultura, delle risorse del territorio e raccontarli poi in un elaborato nell'ambito di attività coordinate dalle scuole. Il progetto, che permetterà ai partecipanti di conseguire la Carta di Identità Culturale Toscana, è stato presentato al Palazzo del Pegaso. È nato da un'idea della vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, promosso e finanziato dall'Assemblea della Toscana e organizzato da Fondazione Sistema Toscana. All'incontro con gli organi di informazione hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il vicepresidente Stefano Scaramelli, con il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, e Lorenzo Pierazzi, dirigente tecnico dell'ufficio scolastico della Toscana. Sentiamo allora le parole di tutti i protagonisti. Sì, giovani che sono protagonisti, ringrazio il presidente Mazzeo della possibilità che mi ha dato di organizzare e gestire questa progettualità fatta per i ragazzi, per la generazione Z che diventa protagonista di un percorso culturale identitario della Toscana, ragazzi che si conosceranno nell'ambito dei loro percorsi scolastici, alla scoperta di territori della Toscana, e terranno in relazione con altri ragazzi, e a loro volta saranno in grado di ospitare altre scuole. Un interscambio fra province, un interscambio fra scuole, una collaborazione molto proficua con l'ufficio scolastico regionale e con la Fondazione Sistema Toscana. È la Toscana che si mette a disposizione dei giovani e rende i ragazzi protagonisti, e l'esperienza più bella sarà, a mio avviso, poi raccontare quello che loro avranno vissuto, verrà fatto con canali moderni e tecnologici, saranno loro stessi i protagonisti di un racconto, della loro identità e della loro storia, quindi raccontare e conoscere la propria identità, soprattutto avere una relazione. È un progetto che nasce da un'intuizione, quella di costruire le relazioni, e oggi credo che sia l'elemento più importante sul quale dobbiamo lavorare, sconfiggere da una parte la solitudine delle persone, che pensa di essere veramente in relazione, però se manca la dimensione relazionale umana dell'intescambio, anche quella mediata da un social o da uno schermo, può diventare un elemento che allontana le persone. Questa è la filosofia e la logica con la quale è nato questo progetto. 200 ragazze, 200 ragazzi toscani, proveranno a leggere con le loro lenti la Toscana di oggi. La Toscana è terra di arte, terra di cultura, è una terra che della sua identità ne ha fatto storia e presente, ma la Toscana è anche futuro, e attraverso i loro occhi proveremo insieme. e permettetemi di ringraziare il Vice Presidente Scaramelli per il lavoro che ha portato avanti, proveremo a raccontare un'altra Toscana. Lo faremo con scambi tra territori, lo faremo provando a fare in modo che ogni ragazzo e ogni ragazza si prenda un po' cura della nostra bellissima regione, attraverso i social, attraverso il racconto, ma anche attraverso la condivisione. Nasceranno nuove amicizie, nasceranno nuovi ponti, e in un tempo in cui si alzano muri, sapere che ci sono esperienze come questa, mi fa dire che la strada che abbiamo segnato è quella giusta. E allora, alla fine di questo viaggio, 200 ragazze e 200 ragazzi toscani avranno una carta di identità particolare e saranno i nostri rappresentanti nel mondo. È un progetto molto interessante che ha coinvolto 10 scuole, ognuna proveniente dalle varie province della regione, ed è un progetto che ha alla base uno scambio culturale tra ragazze e ragazzi che a seconda dei casi si trovano ad essere promotori del proprio territorio verso la scuola proveniente dall'altra provincia e poi a loro volta ospiti, in un incrocio che vede scambiarsi esperienze, conoscere quello che è la realtà culturale, turistica e soprattutto all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile che afferisce alla legge del 7 febbraio 2023. È un progetto che segna anche il rinnovato unità di intenti tra l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio di vicepresidenza, la Fondazione Sistema Toscana e la scuola che si è adoperata per mettere in contatto i vari istituti e per supportarli nella fase logistica dei primi momenti di scambio. Sì, questo è un progetto per fondazione importante perché, come sapete, la Regione ci dà un mandato a comunicare, divulgare e promuovere l'identità diffusa della Regione Toscana. Questo è un progetto ideale perché lavoriamo con 10 scuole, oltre 208 studenti coinvolti in itinerari che attraversano veramente tutta la Toscana. Pensiamo, vedremo nel calendario degli eventi che solo 4 sono nei capoluoghi, le scuole, il resto sono nella Toscana più diffusa e anche gli itinerari riguardano i temi veramente più ampi, da quelli storici a quelli ambientali, paesaggistici, ricordano i personaggi siccome ricordano i singoli luoghi naturali. Questo ci fa piacere all'inizio del progetto, oggi stesso è in atto il primo itinerario in provincia di Arezzo e subito dopo, entro il 10 maggio, saranno completati e avvieremo la piattaforma online su cui tutto verrà comunicato. Ci aspichiamo che questo progetto di identità così profonda perché lavora con i ragazzi della Regione possa svilupparsi anche nel corso dei prossimi anni, sarebbe un buon auspicio che ci diamo come fondazione. Si è tenuta mercoledì 10 aprile al Cinema La Compagnia di Firenze la prima delle due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordarne la figura e l'opera cinematografica e per presentare il premio a lui intitolato. Iniziativa, organizzata da Filmarea, è realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio regionale e della Regione Toscana. Nel corso della serata è stato proiettato il film Casa Blanca, Casa Blanca ospiti della serata Claudio Bisio, presente in sala e Sabrina Ferilli con un videomessaggio da Roma. Ricordare Francesco Nuti insieme alla figlia Ginevra e alla madre Anna Maria è stata una grande emozione ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Stasera sono emozionato sono orgoglioso di questo premio che abbiamo voluto come Consiglio regionale e un modo semplice per dire grazie a un ambasciatore della Toscana nel mondo. Non è stato soltanto un grande uomo di cinema con le sue opere è riuscito ad emozionarci a raccontare la Toscana ma a costruire poesia. È uno di quegli autori che porto nel mio cuore e uno di quegli autori che porta la Toscana nel mondo. La vicinanza a Francesco e al suo cinema che mi viene qui riconosciuta mi rende felice ha detto Sabrina Ferilli nel suo videomessaggio. Allora buonasera a me dispiace tantissimo non essere lì ma purtroppo non posso muovermi perché per lavoro devo rimanere qui a Roma. Volevo ringraziare tantissimo Ginevra per il pensiero gentile che ha avuto nell'invitarmi e così nel riconoscermi una vicinanza verso Francesco e il suo cinema. So che stasera proietteranno Casablanca Casablanca che fa parte di quella trilogia di firme di Francesco dedicati appunto al biliardo. Biliardo che è stato anche diciamo il focus del nostro Il Signor Pindicipale dell'88 dell'89 che ho fatto con Francesco e che insomma mi ha fatto rendere conto della grande passione che Francesco aveva per il biliardo ma anche della sua destrezza ecco nel giocarci quindi insomma era veramente un giocatore serio un professionista di Francesco ricordo solo cose veramente belle oltre a ricordare e questo mi fa piacere sempre sottolinearlo che Francesco è stato l'unico rappresentante di una commedia molto elegante molto sentimentale mai volgare diciamo così tra virgolette all'americana che il cinema italiano ha avuto e quindi gli va riconosciuto questo veramente un'unicità di regia e di stile nel raccontare appunto le storie le storie d'amore le storie della vita lo porto nel cuore sono felice dice che ci sia questa rassegna dedicata a lui e sono felice veramente che la famiglia Nuti abbia pensato anche insomma di riconoscermi questa vicinanza che ho sempre avuto per Francesco oltre che una vera e propria devozione un bacio ancora grande grande grazie ciao 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 a tutti Nuti è davvero un modello per me ha detto Claudio Visio mi chiedevano qual è l'eredità più grande di Francesco dico due parole io ma poi correggimi mi viene da dire l'eclettismo cioè nel senso nasce live facendo spettacoli dal vivo quello che piace anche a me poi passa al cinema alla televisione insomma l'eclettismo mi sembra di ricordare da suo fan da spettatore l'essere sempre in ogni progetto a fuoco Francesco Nuti è un'espressione dell'identità toscana ha commentato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni Francesco Nuti è un'espressione dell'identità toscana un uomo che è da attore da regista da figura di straordinaria intelligenza acume sarcasmo ironia è riuscito ad essere sull'ombra di un altro pratese cursimo alla parte un maledetto toscano ma Francesco Nuti lo vogliamo ricordare proprio attraverso quello che vuole essere il suo respiro e la sua identità verso il futuro ecco quindi il premio ecco quindi il ringraziamento alla sua famiglia ecco quindi la necessità di pensare a Francesco Nuti come uno dei grandi toscani che attraverso la cultura ha saputo esprimere con grande schiettezza forza ed energia l'identità del carattere toscano Infine le parole della figlia Ginevra Nuti ma in realtà nasce per ricordare il mio papà cioè per portare avanti la sua arte e nasce in realtà a casa proprio parlando di come potevamo in qualche modo anche diciamo far conoscere mio papà magari ai più giovani questo è un tema diciamo che mi sta molto a cuore perché spesso mi interfaccio con i miei coetanei e giustamente non lo conoscono e quindi è diciamo per me una cosa molto importante quindi nasce così non semplicemente chiacchierando con le persone che amo non 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 non